Buonasera prima di tutto io sono appunto il coordinatore liceo scientifico e iniziamo la nostra presentazione con alcune slide che illustrano quello che è il senso del nostro progetto il nostro modo di intendere la scuola partiamo da vogliamo partire da una citazione che è celeberrima una citazione che ci restituisce appunto il valore il senso del percorso in particolare del liceo scientifico caro fedro dove vai e da dove vieni è una citazione da platone dall'inizio di un dialogo di platone che appunto il fedro e che secondo noi riassume in maniera nella migliore maniera possibile quelle che sono appunto le direzioni della ricerca che il liceo scientifico affronta da dove vieni è l'aspetto rimanda maggiormente all'aspetto umanistico del liceo scientifico e rimanda in particolare allo studio del latino che è una materia che ha un valore che magari nella nell'epoca nostra un pochino sta per essere dimenticata ma che ha dal punto di vista delle radici di quella che è la nostra cultura una importanza decisiva oltre che un valore formativo dal punto di vista del pensiero appunto applicato alla traduzione latina che è straordinario dove vai è lo sguardo in avanti è lo sguardo della scienza che però per essere diciamo più penetrante possibile non deve mai fare a meno di quelle radici di cui ho parlato prima ora queste due domande ci riportano al presente comunque nel quale noi ci troviamo e per vivere appunto il presente nel modo più ottimale dobbiamo essere sia volti alla comprensione delle nostre radici così come avere lo sguardo nel futuro il presente è sempre un incrocio dove tutte queste dimensioni temporali si ritrovano e così deve essere la formazione la formazione dei ragazzi deve avere questa questo sguardo ampio su tutte queste dimensioni in modo che possano vivere pienamente il loro presente e progettare il loro futuro per questo appunto gli aspetti costitutivi di quello che è il percorso del liceo scientifico che andiamo a vedere nelle prossime slide sottolineano queste queste l'importanza delle domande che abbiamo appena visto un aspetto costitutivo del percorso è appunto la connessione stretta tra la cultura scientifica e la tradizione umanistica un aspetto che richiede dal punto di vista della didattica una grande sintonia tra lavoro dei docenti e dei progetti particolari perché questi aspetti non vengano semplicemente giusta giusto apposti come a volte nella tradizione scolastica italiana è stato noi vogliamo invece integrarli nella maniera più efficace possibile in un unico in un unico orizzonte di senso e in una pratica didattica quotidiana e per vedere nel dettaglio questo appunto poi vi verranno illustrati come avviene tutto ciò appunto dagli insegnanti che mi seguiranno ecco questa integrazione è volta soprattutto allo sviluppo del pensiero teorico e critico nel liceo scientifico la pratica laboratoriale non è sicuramente dimenticata e fa parte soprattutto per quanto riguarda le scienze ma anche un po altre materie poi vedrete l'inglese eccetera fa parte della didattica quotidiana ma quello che è l'aspetto più specifico quello che porta liceo scientifico ad essere insieme al liceo classico la scuola di più alto livello del panorama dell'istruzione italiana è quella di far sì che i ragazzi sviluppino a 360 gradi da tutti i punti di vista la capacità di di un pensiero teorico e critico che è poi la competenza principale che può servire per i percorsi universitari più importanti mentre delle competenze specifiche sono magari in qualche modo secondarie quella che è la chiave d'accesso principale per ogni percorso di formazione d'alto livello universitario è sicuramente la capacità di pensare la capacità di avere una logica molto stringente che in grado quindi di elaborare anche in maniera perso personale tutto ciò che viene appreso e di affrontare dei problemi di alto livello sempre questi tra questi aspetti costitutivi del percorso nella slide successiva potete vedere appunto come si ribadisce che il nesso tra la cultura scientifica la tradizione umanistica è legata al fatto di utilizzare questi metodi che sono metodi che hanno delle differenze anche importanti integrandoli più possibile integrare il metodo del pensiero scientifico e la logica che è legata alla matematica per esempio con quella che è la riflessione della storia della filosofia oppure della letteratura perché dobbiamo sempre tenere presente che anche un ragazzo che per esempio seguirà un percorso di studi scientifici scientifici all'università per avere una pienezza di comprensione sia della sua esperienza di vita sia del percorso che farà non potrà mai dimenticare che l'uomo è comprensibile non solo grazie alla chimica la biologia o la fisica ma è comprensibile grazie anche all'arte alla poesia che ci sono degli aspetti dell'umano che non possono essere ridotti appunto a puro fenomeno scientifico o a puro studio statistico questo è importante e tra parentesi è anche una chiave d'accesso a quello che ci sta capitando cioè l'emergenza del coronavirus ci pone tante domande e ci pone tanti problemi che non sono risolvibili esclusivamente con l'appello alla scienza bisogna capire quelli che sono i bisogni umani quelli che sono i bisogni affettivi quelli che sono le relazioni di cui appunto parlava anche prima la dottoressa de giorgi per dare delle risposte che non siano esclusivamente come dire tecniche e da questo punto di vista lo scienziato deve avere uno sguardo ben ampio penetrante sulla realtà e lo scopo del liceo scientifico di questa integrazione di cui ho parlato prima dei vari aspetti del percorso è uno scopo di altissimo a livello culturale e anche di altissimo valore formativo secondo me ecco da questo punto di vista appunto la pratica laboratoriale è integrata anche con un insegnamento che richiede dal punto di vista teorico delle degli aspetti che sono effettivamente intellettualmente sfidanti sono intellettualmente belli e che appunto fanno crescere i ragazzi in maniera decisiva ecco oltre a questi aspetti vediamo un po' quelli che sono gli obiettivi del fondamentali che ci proponiamo ovviamente questi obiettivi sono conseguenti a ciò che dicevo prima pensiero critico capacità di problem solving a questo applicato anche alle tecnologie anche al liceo scientifico benché non vi sia l'insegnamento specifico dell'informatica cerchiamo di coltivare nella maniera più efficace possibile l'utilizzo delle tecnologie informatiche tutte le competenze che sono ad esse legate per esempio i ragazzi vengono forniti di una di un ipad che non è un diciamo un semplice strumento complementare alla didattica ma in alcuni soprattutto in alcune materie diventa veramente protagonista della didattica su ipad dei ragazzi sono scaricate delle app per esempio che possono essere utilizzate in materie scientifiche dalla matematica che riguardano lo studio della matematica della geometria applicazioni che possono essere utilizzate nel laboratorio di fisica eccetera che appunto diventano strumento essenziale e non appunto un semplice accessorio oltre che appunto essere una possibilità che in momenti come questi in cui a volte è necessaria la didattica a distanza oppure momenti in cui si integra la didattica in presenza anche con strumenti come questi appunto sono sono utilissimi ecco un altro obiettivo è comunque educare come scritto nella slide educare ad una sensibilità che la sensibilità alla bellezza e che riguarda la valorizzazione di tutta la nostra eredità culturale letteraria filosofica che quando è possibile vediamo di coltivare anche diciamo sul territorio con delle uscite con dei progetti che coinvolgono realtà del territorio uno di queste uno di questi progetti che riguarda la fonda della neonata fondazione morandini di varese dedicata appunto a questo artista che originariamente era di modena ma poi si è trasferito a varese qua ha sviluppato la sua carriera è proprio un'occasione per integrare vedrete nell'illustrazione poi degli insegnanti nell'integrale in un progetto concreto e non solo in questo discorso un po generale che io posso fare in questi pochi minuti dicevo in un progetto concreto questo questi due aspetti fondamentali del liceo scientifico ed educare anche ad una sensibilità che coniuga la bellezza anche con la matematica inoltre un aspetto decisivo del nostro liceo scientifico è quello dell'attenzione alle lingue straniere che vengono potenziate in maniera in maniera particolare un potenziamento che non ha come intenzione quella di creare diciamo una sorta di ibrido tra il liceo scientifico e il liceo linguistico non è assolutamente questa l'intenzione ma quanto di dare gli strumenti fondamentali proprio quei ragazzi che vorranno proseguire la loro carriera la loro formazione con con percorsi universitari che riguardano materie scientifiche ora ormai è come dire è qualcosa che tutti sanno che le scienze hanno una lingua internazionale tutta la letteratura scientifica internazionale è pubblicata in inglese tutti i siti dei grandi istituti scientifici e di ricerca internazionale sono pubblicati in inglese indipendentemente da questo poi anche prima si parlava di pratica laboratoriale nei laboratori di un po tutti i livelli dall'università a quelli che sono i laboratori delle multinazionali o istituti di ricerca privati o pubblici i protocolli per per appunto sviluppare la ricerca sono tutti i protocolli in inglese indipendentemente da questo anche dei ragazzi che non seguiranno poi un percorso di carattere strettamente scientifico perché poi dal liceo scientifico alcuni fanno economia altri passano architettura qualcuno fa lingue lettere possono fare qualsiasi percorso perché appunto il liceo scientifico dà le chiavi d'accesso a tutti i percorsi universitari indiscriminatamente tutti questi ragazzi a parte il momento attuale della emergenza hanno la possibilità ormai all'università di fare i famosi programmi erasmus e quindi di fare delle esperienze internazionali per questo noi vogliamo fare in modo che vogliamo fare in modo che i ragazzi abbiano tutti gli strumenti e tutte le competenze necessarie per poter sfruttare queste possibilità che sono delle possibilità molto belle che ormai l'università italiana da loro da questo punto di vista poi abbiamo anche deciso di aggiungere anche una seconda lingua comunitaria il lo spagnolo oppure oppure il tedesco in alternativa perché effettivamente l'inglese è già comunque praticato spesso e ha tante occasioni per essere imparato queste queste una un'altra lingua straniera è una carta in più che ragazzi si possono giocare e poi soprattutto è una risposta a quello che è un patrimonio che nelle medie che dopo le medie spesso purtroppo viene sprecato cioè i ragazzi della scuola italiana alle medie imparano appunto una seconda lingua comunitaria e molto spesso viene abbandonata ed è un vero peccato qui invece c'è la possibilità di proseguire su questa strada l'idea è appunto che grazie a l'insegnamento delle lingue e anche l'apertura a certe esperienze che poi verranno illustrate nello specifico ci sia un'apertura ad una internazionalizzazione della scuola un'apertura a quelli che sono degli orizzonti che sono più vasti di quelli locali che offrano una serie di possibilità per il futuro dei ragazzi che siano più efficaci che siano più belle che diano la possibilità di scegliere tra appunto sempre più opzioni e non magari ridursi a qualche cosa che poi appunto è più povero. Per quanto riguarda appunto questo tipo di scelta c'è poi il fatto che il monteore del liceo scientifico è un monteore che si amplia rispetto alla offerta formativa nazionale del liceo scientifico come potete vedere appunto in questo schema che è proiettato il la quota per quanto riguarda il biegno la quota annuale di del monteore per settimana è di 27 ore noi invece proponiamo un monteore di 30 proprio perché tra la seconda lingua comunitaria e appunto l'inglese c'è un potenziamento e ci sono più ore. Queste ore tra l'altro portano nel corso del secondo biegno un ulteriore aumento e quindi poi al fatto che i ragazzi mentre nel primo biegno vengono a scuola tutti i giorni dalle otto del mattino alle due circa dal lunedì al venerdì al secondo dal secondo biegno stanno previsti dei rientri pomeridiani. Ecco questo è un po' diciamo la sintesi e la sintesi di quello che è il senso di quelle che sono le specificità del nostro liceo. Ora passeremo a degli insegnanti che vi faranno vedere due questioni in particolare. Una appunto sono due insegnanti uno di latino e uno di fisica che collaborano alla progettazione didattica di alcuni percorsi in cui quel discorso generico sulle materie umanistiche e le materie scientifiche ho fatto prima viene calato appunto nel concreto. E poi passeremo alla responsabile del dipartimento di lingue che invece illustrerà nel modo più specifico quello che è l'insegnamento dell'inglese e quelle che sono le opportunità anche di maggiore internazionalizzazione che la scuola offre appunto ai ragazzi che si scrivono. Vi ringrazio per adesso e passo la parola appunto agli insegnanti. Prego. Buonasera io mi chiamo Danila Cervini insegno italiano e latino e insieme al mio collega professor Sinatra vi spieghiamo un po' quale tipo di progettazione abbiamo pensato per attuare gli obiettivi di cui vi ha parlato professor Villa. Qui trovate sintetizzati quelli che sono un po' i nostri punti di forza e il metodo di lavoro che utilizziamo. La collaborazione tra le discipline, il potenziamento delle capacità logiche, la volontà di costruire un metodo di studio che sia valido in tutte le materie e che possa accompagnare i ragazzi con una progressione per cinque anni. L'obiettivo di comunicare in maniera efficace nei vari registri e nei vari linguaggi e poi vi faremo anche qualche esempio pratico di come nel concreto perseguiamo questo tipo di obiettivo. L'elemento che per noi è fondamentale è la collaborazione quotidiana tra docenti e l'integrazione delle discipline per costruire insieme. Molto spesso nella scuola si può cadere nella tentazione di lavorare in maniera isolata entrando in classe chiudendo la porta e proponendo il proprio programma. questa è la cosa più sbagliata che si può comunicare ai ragazzi, come se la cultura fosse fatta di piccoli pezzettini slegati tra di loro. Il nostro desiderio è quello di integrare il sapere, di portare la cultura nella convinzione che questa consiste nella unitarietà delle discipline e quindi c'è una costruzione quotidiana di percorsi nei quali collaboriamo per arrivare ad un obiettivo unitario. In una di queste foto voi vedete il plastico di una città antica. Ecco, questo è un esempio concreto di come si possa portare i ragazzi a dare una forma a quello che hanno imparato. È la proposta che noi facciamo quest'anno sulla nostra prima liceo scientifico. In storia studiano il mondo antico, con la storia dell'arte ne conoscono le caratteristiche strutturali e la bellezza. In latino possono leggere materiale che parli della città antica e del modo in cui gli uomini vivevano. In matematica possono individuare modelli geometrici con i quali ricostruire una progettazione relativa all'urbanistica antica. Passare poi ad un prodotto concreto, cioè una costruzione di un plastico, è il punto di sintesi tra tutto quanto hanno studiato. Mi faccio anche un altro esempio. Possiamo tornare alla slide precedente. Nella foto a sinistra potete vedere, quello è il nostro laboratorio di fisica, però non sono io il docente. Il docente è il docente di filosofia. Questa è una lezione su Pitagora, che il professore stava introducendo in terzo scientifico come argomento di filosofia e che poi è stata ampliata a fisica e a matematica. Cioè abbiamo fatto una lezione di filosofia, fisica e matematica nel laboratorio di fisica. Questo per aiutare le ragazze a capire proprio qual era il contesto in cui si sono sviluppate le idee di Pitagora. Pitagora è colui che intuisce le note, intuisce il rapporto tra quelle che noi adesso chiamiamo note musicali. E poi siamo andati a vedere come un approfondimento scientifico, quindi andrà a vedere, ok, ma che cos'è una nota? Quindi a partire da una domanda filosofia, Pitagora cercava l'ordine nell'universo, voleva dimostrare che l'universo è conoscibile. I ragazzi sono stati accompagnati in un percorso filosofico scientifico. E questa è una testimonianza di come, questa è nata proprio da una discussione tra noi colleghi, ma questa è una discussione, diciamo, critica, una dinamica di ricerca che è quotidiana all'interno del nostro corpo docente. Per cui la nostra progettazione è spesso in divenire perché ci sono molte opportunità di dialogo e quindi molte opportunità di sperimentazione, sempre tenendo come protagonisti i ragazzi e appunto per aiutarli a cogliere quella unità disciplinare di cui parlava la mia collega. Siamo andati al secondo punto. Ecco, la facoltà più alta che sviluppa il ricercio scientifico è la logica, che è un'unica radice con due significati, parola e numero, in che indica bene quale legame stringente ci sia tra le discipline umanistiche e il campo della matematica, della fisica e delle scienze. Un obiettivo del ricercio scientifico è quello di sviluppare quindi l'abilità dei ragazzi di comprendere i problemi, e per la parola problema non intendo soltanto quello di matematica ovviamente, ma qualunque tema che richieda una risoluzione, cercando anche di poterla comunicare con efficacia, esattamente come ha fatto Euclide, che è stato un grande matematico ma anche uno straordinario scrittore, e come testimoniato un po' da tutta la tradizione scientifica del nostro paese, dove appunto grandi uomini di scienza sono stati anche abilissimi divulgatori. Per questo infatti la matematica, la matematica come strutturazione di un pensiero logico, è la costruzione, la dimostrazione geometrica, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, lì vediamo un esempio di costruzione geometrica attraverso GeoGebra, che è un software molto diffuso ormai nella scuola, serve proprio per costruire non soltanto chiaramente le conoscenze matematiche e geometriche che servono per il percorso, ma appunto per costruire una capacità di analisi critiche e problem solving, che poi il ragazzo sfrutterà in ogni contesto. Per cui anche in questo caso vediamo come la strutturazione logica va a influenzare campi più bassi rispetto a quello da cui si parte con la dimostrazione geometrica. Il terzo punto che volevamo sviluppare è proprio quello relativo al metodo di studio. Beh, se noi leggiamo il titolo di questa slide, costruire un metodo di studio, osservare, descrivere, analizzare, sintetizzare, questo non è altro che il metodo della ricerca, cioè la ricerca scientifica, il metodo scientifico va attraverso questi quattro passaggi. Per cui da una parte appunto il laboratorio diventa l'occasione per ispezionare la realtà, per indagare la realtà. Però diventa anche un metodo di studio, tant'è che noi abbiamo deciso di organizzare il biegno, il primo biegno dello scientifico, di dividere, diciamo, i quattro quadrimestri, dando ricomettito queste quattro fasi, in modo tale che tutte le discipline insieme lavorassero nello sviluppare queste competenze, quindi la competenza di osservare, di descrivere, di analizzare e sintetizzare. Perché un percorso di questo tipo, di durata biennale, aiuta il ragazzo ad acquisire una struttura nella costruzione del pensiero e nella costruzione delle sue argomentazioni. I laboratori inoltre viene, l'esperimento viene osservato, descritto, analizzato sotto tutti i suoi aspetti, per cui anche di anni d'anno, durante il laboratorio di fisica e di scienze, aumentiamo la complessità, sia perché aumenta la complessità del fenomeno, ma sia perché introduciamo sempre della strumentazione più professionale, grazie anche al suo utilizzo della tecnologia. Quindi, per esempio, dal secondo anno Excel diventa uno strumento fondamentale e questo riprendo quello che diceva prima il Presi, cioè l'attenzione allo sviluppo delle competenze informatiche trasversalmente da tutte le discipline, quindi come strumento che i ragazzi devono conoscere. Il metodo scientifico si adatta benissimo anche alle discipline umanistiche, perché per noi osservare significa potenziare le capacità di attenzione. Descrivere vuole dire verbalizzare, saper spiegare, dettagliare. Analizzare diventa una capacità che porta a guardare con molta acutezza qualunque testo, nel saper cogliere il pensiero anche nascosto di un autore, non detto, implicito, nel cogliere sfumature persino nelle pause. E sintetizzare significa conoscere pienamente un argomento distinguendo quello che è fondamentale da ciò che è marginale. Possiamo andare all'altra slide? Ecco, poi qui troviamo quella che è in fondo una delle caratteristiche portanti della comunicazione nel liceo scientifico, e cioè saper comprendere più linguaggi e più registri. Ogni materia ha un proprio codice. Ovviamente è facile e immediato coglierlo dal punto di vista delle lingue e delle letterature, l'italiano, l'inglese, la seconda lingua scelta, già permettono di spaziare su livelli di comunicazione diversa. Ma esiste anche un linguaggio della matematica, della fisica, dell'informatica, che i ragazzi affinano nel corso di cinque anni. E all'interno di ogni disciplina ci sono anche livelli di comunicazione diversi. È un po' come era nell'uso della retorica antica. I ragazzi imparano ad esprimersi nella maniera più appropriata a seconda del tipo di richiesta che a loro viene presentato e anche a seconda del tipo di prodotto concreto che devono poi presentare nelle varie discipline. Infatti questo è un altro esempio, questo Wikigravity. Questo è un po' il progetto del terzo anno del liceo scientifico. I ragazzi affrontano in fisica il tema della gravità, della teoria gravitazionale di Newton. Solitamente viene svolto nella modalità CLIL, quindi attraverso l'utilizzo dell'inglese. Però visto che è un tema così importante, perché parliamo di rivoluzione copernicana, quindi rivoluzione assonomica, questo argomento diventa l'occasione per un progetto interdisciplinare che coinvolge materie di filosofia, di italiano, storia, storia dell'arte, matematica e fisica, in cui la richiesta che viene fatta ai ragazzi è quella della realizzazione di un sito internet dove devono affrontare i vari argomenti legati a quello che è successo quando l'uomo si è imbattuto nell'universo. Cioè come l'uomo davanti al cielo stellato, come le domande che gli sono sorte, come da queste domande sono sviluppate la filosofia, la matematica, la fisica, la letteratura. Quindi anche qui fare vedere ai ragazzi come proprio nell'impatto con la realtà l'uomo si pone delle domande e poi dalla risposta a queste domande derivano le varie discipline. Quindi anche qui, come diceva alla mia collega, i ragazzi nelle varie pagine per esempio di questo sito dovranno utilizzare un registro linguistico che sia appropriato all'argomento che stanno trattando. E questo è rispetto magari ai progetti del bienio, un progetto in cui i ragazzi devono più lavorare in autonomia, quindi devono fare delle scelte, mettono in gioco la loro creatività perché appunto c'è anche la realizzazione di un prodotto originale come quello appunto di un sito di un sito internet. Possiamo andare avanti? Questo è l'ultimo esempio, oserei dire l'ultimo nato. Il rapporto con la Fondazione Morandini. L'anno scorso siamo stati contattati dalla Fondazione Morandini perché loro sono coinvolti nella settimana della matematica che doveva svolgersi questo settembre a Varese, si svolgerà probabilmente a settembre l'anno prossimo. E parlando di una possibile collaborazione ci siamo imbattuti in quest'autore, siamo stati molto colpiti dall'utilizzo della geometria delle sue opere e questo ci ha portato a interrogarci, a metterci in un vero atteggiamento di ricerca, prima di tutto noi docenti, per l'ideazione di un progetto che potesse coinvolgere i ragazzi. Per cui i ragazzi del secondo anno, quest'anno, verranno coinvolti in un progetto in cui loro dovranno analizzare delle opere dell'autore, modellizzarle attraverso dei software dedicati, quindi GeoGebra, Excel o altri software, andare a realizzare un catalogo di confronto tra l'opera dell'autore e il modello da loro costruita, probabilmente anche utilizzando più lingue, fino a creare dei laboratori che possono essere messi in atto durante la settimana della matematica e questo progetto, questo catalogo che loro andranno anche a realizzare verrà esposto anche all'interno della Fondazione Morandini. Per cui i ragazzi avranno la possibilità di, non solo di creare e di studiare dal punto di vista geometrico l'opera, ma anche di dare qualcosa alla città, perché il loro lavoro andrà anche ad arricchire proprio l'esposizione stessa. Anche in questo c'è un concorso delle materie umanistiche, perché nella scrittura di un catalogo ovviamente bisogna potenziare delle capacità di sintesi e delle capacità espressive. E nella speranza che si possa anche tornare a visitare delle mostre, l'idea ambiziosa è quella di selezionare dei ragazzi che possano anche fare delle guide e quindi lì si tratta anche di saper parlare in pubblico, saper leggere il confronto con persone che non si conoscono e ottenere chiarezza. La nostra presentazione è conclusa, lasciamo la parola. Passiamo appunto alla parte specifica delle lingue straniere, che è molto più vasta rispetto a quel poco che ho potuto sintetizzare io, per cui lascio la parola alla professoressa Grigioni. Grazie, buonasera a tutti. La proposta che riguarda le lingue straniere si realizza in modalità diverse nei vari percorsi, ma ha delle caratteristiche comuni e le andiamo a vedere. Sicuramente una caratteristica comune è il privilegio dato all'approccio comunicativo, cioè l'approccio che è volto a potenziare le abilità per l'acquisizione delle competenze linguistiche comunicative. La presenza di una docente madrelingua per curare la pronuncia, l'intonazione, sviluppare le capacità e le abilità di listening e di speaking. La varietà della proposta, come dicevate anche prima, dicevano i colleghi, rispetto a percorsi didattici, laboratori che utilizzano la lingua inglese come lingua veicolare e integrati chiaramente da moduli CLIL. Il CLIL è una metodologia di apprendimento integrato di lingua e contenuto e prevede l'insegnamento di una parte di una disciplina utilizzando la lingua con il duplice obiettivo di apprendere il contenuto disciplinare e di utilizzare quindi la lingua straniera. Un altro aspetto caratteristico che caratterizza tutti e tre i percorsi liceali è il progetto di insegnamento per i livelli al bienio. È un progetto che ha visto la sua nascita due anni fa per rispondere alla varietà di accesso che hanno i ragazzi rispetto alla scuola di provenienza della scuola media e quindi con una varietà diversa di competenza linguistica. Quindi abbiamo proposto questo progetto che prevede la suddivisione in tre gruppi eterogenei per competenza linguistica attraverso un test da effettuare all'inizio dell'anno e che tocca tutte e quattro le abilità linguistiche. Lo scopo appunto è quello di rafforzare le abilità dei ragazzi ad un passo adeguato al loro livello di ingresso e di apprendimento, consolidare le competenze linguistiche di base e valorizzare sicuramente le eccellenze e evidenziare anche da parte della scuola un'attenzione mirata allo studente che lavora chiaramente in un ambiente più adeguato alla propria capacità sia di apprendimento che di appunto ingresso come livello di competenza linguistica. In ogni livello si favorisce chiaramente un clima di forte motivazione cosicché i ragazzi nutrano l'ambizione di passare ad un livello superiore e arrivare alla fine del bienio ad avere una buona competenza linguistica per poi passare, come è stato poi evidenziato anche successivamente nella slide, all'approfondimento degli aspetti culturali e letterari al triennio. In particolare per il liceo scientifico c'è la proposta appunto della seconda lingua straniera come anticipava il professor Villa, con l'opzione di scelta tra tedesco e spagnolo. Questo prevede appunto la presenza di due unità orarie settimanali e garantisce comunque appunto il proseguimento del percorso iniziato alla scuola media e comunque di avere uno sguardo sempre aperto a realtà diverse rispetto alla nostra. Durante tutto il percorso appunto del liceo vengono offerte varie possibilità di certificazioni linguistiche che sono comunque un percorso anche questo di consolidamento e di verifica della propria preparazione proprio sul campo rispetto alla conoscenza della lingua. Ai ragazzi di prima e di seconda viene proposto il superamento dell'esame PET che è un livello B1 mentre ai ragazzi di terza e di quarta con un accompagnamento di un corso pomeridiano viene offerta la possibilità di superare appunto l'esame FIRST B2 che è un esame che tendenzialmente chiedono molte università in ingresso appunto in fase di iscrizione al percorso universitario. Durante tutto il percorso chiaramente anche per la seconda lingua straniera mi stavo scordando di dire viene proposta la certificazione linguistica che questo testimonia comunque della cura anche nella proposta di una seconda lingua che comunque ha una struttura oraria inferiore rispetto all'inglese ma che può portare appunto alla certificazione linguistica in uscita al quarto anno di livello A2. Durante tutto il percorso appunto degli studi viene offerta chiaramente la possibilità di soggiorni estivi e in particolare c'è questa esperienza che è possibile fare durante il quarto anno è un'esperienza molto bella che abbiamo potuto vivere in questi ultimi tre anni di uno scambio linguistico e culturale con un liceo negli Stati Uniti che è la Handicott High School che ha sede appunto a Handicott che è una cittadina dello Stato di New York e questo consta di due settimane di soggiorno presso una famiglia americana per cui i ragazzi vanno a scuola con il loro appunto ospite in questo caso e possono vivere proprio nel concreto l'esperienza sia culturale di avvicinare un modo di vivere diverso e anche un modo di andare a scuola diverso dal nostro e di potenziare sicuramente la lingua. Novità in assoluto per il prossimo anno scolastico c'è la possibilità di aderire ad un programma per un doppio diploma Italia-Stati Uniti. Abbiamo pensato di proporre questa possibilità proprio perché al fine di ottenere un buon inserimento nel mondo universitario e del lavoro diventa sempre più interessante e utile possedere un titolo di studio che attesti tutte le capacità e competenze che vengono valorizzate in un percorso a forte orientamento internazionale come appunto questo del doppio diploma. Il programma permette ai ragazzi italiani che frequentano una scuola superiore di diplomarsi anche negli Stati Uniti cioè quindi di ottenere un diploma di scuola superiore americano. Questo lo si può fare presso una scuola superiore che è quella della Mater Academy High School di Miami e il programma consiste in sei corsi da frequentare su una piattaforma didattica con colloqui e lezioni con insegnanti americani previsti sulla piattaforma di Skype e il tutto appunto è da svolgersi in orario pomeridiano perché appunto è un percorso che si sviluppa parallelamente alla frequentazione della nostra scuola e prevede una durata o uno sviluppo come vedete nella slide su quattro, tre o due anni. Chiaramente il percorso di quattro anni è quello più agevole, più diluito nel tempo perché appunto il diploma consta nell'ottenimento di 24 crediti 18 sono dati dal percorso italiano quindi è un concorso di voti rispetto ai voti delle varie discipline al voto di ammissione alla maturità e gli altri sei crediti vengono appunto acquisiti sulla piattaforma attraverso il superamento di sei esami appunto quindi nel programma di quattro anni vengono diluiti un po' nel tempo. Abbiamo pensato appunto di proporre questo percorso per le ragioni che vi dicevo prima appunto di una buona possibilità cioè una possibilità ulteriore di inserire nel proprio profilo personale una valorizzazione insomma rispetto a un percorso fatto e anche perché porta comunque il percorso a sviluppare delle altre potenzialità e competenze sicuramente fa acquisire un livello linguistico di livello C1 che è un livello molto alto in uscita quindi più alto del FIRST che solitamente si propone come esame di certificazione in quarta superiore e sviluppa delle competenze tecnologiche ulteriori perché appunto tutti i lavori e tutte le lezioni vengono fruiti su una piattaforma digitale sviluppa delle capacità delle soft skills cosiddette cioè delle competenze trasversali che riguardano il problem solving che riguardano il pensiero creativo che riguardano la capacità di adattamento inoltre è chiaramente l'attestato riconosciuto in varie unità scusate università italiane come titolo di accesso per esempio per i percorsi universitari offerti in lingua inglese o se non italiane comunque in varie facoltà europee e chiaramente è un titolo di accesso alle università statunitensi come accompagna la scuola questo percorso all'interno della nostra scuola è prevista chiaramente una figura di tutor che aiuta un po' i ragazzi o comunque monitora il lavoro dei ragazzi e li accompagna appunto verso il conseguimento e il raggiungimento finale insomma del percorso non mi viene nient'altro da aggiungere però insomma sono a disposizione per ulteriori chiarimenti grazie ecco beh aggiungerei una sola cosa rapidamente e poi lascerei a voi le domande quello che voglio aggiungere è questo che una questione chiave del nostro liceo come di tutte le scuole manfredini comunque è l'attenzione alla persona e questo lo si vede concretamente anche in alcune delle cose che sono state dette dagli insegnanti la presenza dei tutor che tra l'altro è prevista anche per gli studenti del primo biennio e che affiancano i ragazzi soprattutto nel momento delicato del salto dalla terza media al liceo per quanto riguarda appunto il metodo di studio i tutor per prima cosa monitorano il progresso dei ragazzi nell'acquisizione del metodo di studio perché a volte può essere lì il punto in cui anche un ragazzo che è alle medie funzionava diciamo tranquillamente può incepparsi un pochino poi appunto per qualsiasi altra questione che può riguardare gli aspetti relazionali piuttosto che altri aspetti didattici il tutor controlla che il ragazzo appunto abbia a disposizione tutte le possibilità per affrontare serenamente il percorso scolastico e poi nell'inglese appunto l'insegnamento per livelli e come è stato detto prima è inteso proprio a venire incontro alle esigenze personali di ogni ragazzo un insegnamento che cerca di seguire le necessità, i bisogni, le richieste del ragazzo ecco questo volevo sottolinearlo un po' e adesso lascerei appunto lo spazio alle domande e siamo qui io e gli insegnanti per rispondere ad ogni domanda prego fin